Per avere un miglior controllo di tutto il lavoro di modellazione e di fase di disegno in 3D, è molto utile poter avere diverse viste sullo stesso modello. Per aprire e attivare delle finestre nuove, visualizza finestre e finestre con nome. In nuove finestre il sistema AMI presenta diverse configurazioni di finestre, fra cui 4 con 3 a sinistra e così via. Noi scegliamo questa di 4 finestre uguali. Notiamo anche che possiamo selezionare interno schermo oppure a finestra corrente, cioè quindi suddividere una finestra esistente e avere delle impostazioni 2D o 3D. Con 3D il sistema mi presenta una configurazione di finestre 3 ortogonali e una sonometrica che fanno riferimento al sistema del terzo diedro, cioè metodo A americano, quindi anglosassone. Per modificare possiamo cambiare la vista e selezionare il tipo di vista oppure, come facciamo adesso, impostare e accettare questa vista o queste 4 viste e modificarle singolarmente, così si riesce a capire anche bene come funziona la definizione del punto di vista. Allora, attiviamo la finestra in basso a sinistra e digitiamo P vista. Con P vista noi possiamo definire la direzione del punto di vista. Una vista in pianta sarà 0,0,1, cioè una vista lungo l'asse Z. Quindi, siccome è una vista con raggi paralleli, sarà una vista ortogonale. La vista in fronte, quindi attiviamo la vista in alto, digitiamo sempre P vista oppure invio per ripetere il comando. A questo punto la definizione sarà 0,1 perché è la direzione lungo l'asse Y ma senso negativo. Quindi questa è la nostra vista frontale. Attiviamo in alto a destra, invio, sarà negativa lungo la X, quindi meno 1, 0, 0. La quarta vista possiamo definire una vista assonometrica scegliendo visualizza punto di vista 3D, vista assonometrica oppure semplicemente ripetendo P vista, invio, invio e in questa bussola possiamo definire il punto di vista. La bussola è lo sviluppo di una sfera in cui il centro è il polo nord, il primo cerchio è l'equatore, il secondo cerchio, quello più esterno, è il polo sud. Quindi tutta la nostra vista sarà fra il polo nord e l'equatore. Definiamo in maniera interattiva il punto di vista, ovviamente non è preciso ma molto veloce e abbiamo definito una sonometria, quindi una vista assonometrica. Le altre tre viste sono viste ortogonali. Possiamo a questo punto salvare finestre, sempre finestre con nome, salvare la nostra configurazione. Possiamo dare finestre 4 oppure un qualunque altro nome e dare ok. In questo modo noi abbiamo salvato non solo le quattro finestre ma anche i punti di vista, quindi l'orientamento di vista all'interno di ogni finestra.